Un accordo sindacale nell'ambito del piano industriale del gruppo Ubi Banca è quello che è stato siglato con tutte le rappresentanze sindacali e disciplina un'ulteriore fase del piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti nel piano industriale 2019-2020 del gruppo Ubi, aggiornato con l'acquisizione delle ex Bridge Banks avvenuta nel maggio 2017. L'intesa sindacale riguarda l'uscita su base volontaria di circa 300 risorse, incluso l'accoglimento di 50 domande di ingresso al fondo di solidarietà già presentate in occasione del precedente piano di esodi, attivato con l'accordo sindacale dell'ottobre 2017, che aveva registrato richieste di adesione volontaria all'esodo superiore a quelle ammesse finalizzate nelle precedenti fasi di attuazione del piano medesimo. L'uscita delle risorse è prevista progressivamente già a partire dal mese di febbraio. I relativi oneri, pari a circa 70 milioni di euro lordi, 50 netti, saranno contabilizzati nei risultati relativi al quarto trimestre 2019. Le sinergie di costo sono state estimate in oltre 20 milioni nel 2020 e in oltre 25 milioni annui a regime a partire dal 2021. Prosegue inoltre in coerenza con le previsioni del piano industriale il ricambio generazionale correlato all'iniziativa di esodo, che consentirà a sostegno anche dell'occupazione giovanile l'ingresso di nuove risorse, oltre al consolidamento dei rapporti a tempo determinato già operanti nel gruppo. L'accordo, secondo Bibanca, rappresenta un'ulteriore fase del processo di razionalizzazione degli organici del gruppo, che prosegue in linea con le previsioni del piano industriale attualmente in essere, che permetterà il raggiungimento dell'obiettivo di organico previsto da tale piano per il 2020, riguardante circa 19 mila 500 risorse.